Catanzaro Potenza 2020-2021, prima stagione dell'anno nuovo, gennaio. Entriamo allo stadio, è lo stadio nel quale siamo cresciuti, ma non è lo stesso stadio con gli stessi colori di sempre perché notiamo, varcando la soglia, che il nostro caro ultimo pino marittimo che è sempre stato il fiore all'occhiello di questo stadio, versa in condizioni disperate, non è più verde. Il colore che predomina è un altro, è diverso, è un albero sofferente. Soffre e Catanzaro Sport24.it se ne occupa immediatamente, vuole fare luce, vuole fare chiarezza, vuole capire perché questo simbolo nel quale tutti siamo cresciuti e dal quale abbiamo ricevuto riparo dal sole come dalla pioggia, forse anche un po' pericolosamente, deve continuare a vivere. È un pino che ha 60-70 anni, ma deve continuare a vivere. Catanzaro Sport24.it vuole fare chiarezza. Oggi avevamo cercato a iniziare a farla. Leonardo Lacava. Sì, ciao Carlo e buongiorno a tutti quanti. Come ha detto Carlo, avevamo cercato di fare un attimino un po' di luce sulle condizioni del pino. La mia presenza qui non era neanche prevista e si è resta necessaria dopo perché dobbiamo spiegare cosa è successo. Noi avevamo interpellato uno specialistia del verde e si era recato qui con noi per fare questo servizio per dirci le condizioni del pino e come si può operare per riprenderlo. Però purtroppo abbiamo assistito a qualcosa da regime bulgaro, nel senso che questo specialista è stato contattato dal comune di Catanzaro il quale gli ha assolutamente proibito di rilasciarci qualsiasi dichiarazione in merito alle incondizioni del pino. Sinceramente non capiamo il perché. Forse perché magari c'è un contatto di lavoro tra il professionista e il comune, però in fin dei conti non avevamo chiesto nulla di così segreto, di così che potesse urtare la sensibilità. In ogni caso è giusto che relazioni prima al comune. Sì, è giusto che relazioni prima al comune ma sono cose che non competono a noi però perché noi dal momento che ti interpelliamo, ti diciamo se sei disponibile a venire, a dirci la tua da specialista e vieni e il comune ti chiama e ti tiri indietro c'è qualcosa che sinceramente non va. Questo comunque non ferma CatanzaroSport24.it e ovviamente, sicuramente nei prossimi giorni interpelleremo anche qualcun altro che sa di verde, che sa di cure a piante secolari, che sa di cure a quello che è il simbolo della nostra città, sicuramente, vero? Sì, sicuramente, noi ci adopereremo per, anzi, lasciamo un appello, lo lanciamo pubblicamente se c'è qualche agronomo specialista del settore che voglia dirci la sua su come poter intervenire noi siamo assolutamente disponibili ad ascoltarlo e ad accertare eventualmente consigli possiamo lanciare, non lo so, anche una campagna di raccolto fondi per salvare quest'albero dal momento che il comune sembra non se ne voglia occupare visto che comunque sia, non lo so, aspetta magari l'input che nasca il problema e diventa grosso il problema e poi interviene a mo' di salvatore della patria C'è solo la voglia di risolvere il problema, tutto qua Appuntamento alle prossime occasioni